ed eccoci alla conclusione delle nostre mini clip spero che queste pillole di corso vi siano state utili vi do un ultimo appuntamento ci rivedremo a due mesi dal parto per conoscere i vostri cuccioli e per sapere se vi siamo state d'aiuto per affrontare quello che è il periodo più importante nella vita di ogni coppia se volete potete mandarci un feedback attraverso il nostro sito che ormai conoscete un saluto grande le vostre ospitriche